Come avete detto dal titolo, negli scorsi giorni è girato un filmato di Grelmos realizzato con l'intelligenza artificiale ed è intervenuto in prima persona spiegando che lei fondamentalmente non è quella del video per tantissime cose fra cui le unghie e tatuaggi per esempio e inoltre è nata a denunciare alle forze dell'ordine in cerca chiaramente di un responsabile che se effettivamente dovesse venire preso, la punizione per questo genere di cose è abbastanza severa quindi vista la situazione ovviamente non vi posso caricare il video né qui su YouTube ma neanche su Telegram non me lo chiedete neanche in privato perché avete capito insomma è una cosa abbastanza grave ma non aggiungo altro fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo in un prossimo video, linea lo studio